che cos'è che orrore cervelli non preoccuparti cara mi occuperò io di tutto ci sono tesoro fai attenzione cosa dove sono le mie zanne sono il mio trofeo mordicchiatore oh no tesoro corri più veloce forza siamo al sicuro ci ha mancato poco e quella chi è tesoro che succede ciao ciao a quanto pare questa è tua che orrore grazie pensavo di averla dimenticata a casa a proposito questi sono vostri grazie pensavo di dover far crescere nuovi denti sono pronto a mordere caro guarda che cos'è mi sento così sola e voi siete così felici potreste adottarmi sarai come una figlia per me bump non rifiuteremo vero cara mi conosci troppo bene benvenuta in famiglia piccola sei così carina ma cos'hai sulla faccia o alla faccia di qualcun altro piccola stai perdendo la pelle è scena l'età oh sai ho qualcosa per te credo che questa maschera potrebbe aiutarti no no sono terribile così come sono e ora sarai terribilmente bella guarda è come se fosse stata fatta per te aspettiamo un po e ora vediamo il risultato oh wow mi sto cadendo a pezzi noi ci occuperemo delle tue orecchie vanno meglio ma ho un'idea migliore gli orecchini li creerò i gli orecchini da vampira sono fatti e sottistiano davvero bene wow grazie mille solo il dottor zanne può aiutarci non farlo per favore beh anche l'assistente va bene non essere timido avanti proprio quello che ci serve ok tesoro sei pronta non lo mangerò devi farlo se vuoi dei denti nuovi ora va molto meglio e ora limiamoli perfetto wow sono proprio come una vampira brucia ma che gli prende vieni da me posso fare una passeggiata ma cos'è questo aspetto non ti lascerò uscire così fermati signorina se vuoi diventare una vampira devi camminare come una vampira postura dritta leggerezza e carisma so cosa ti aiuterà c'è una soluzione per camminare i libri non fanno bene solo al cervello e ora cammina senza far cadere i libri sul pavimento perché guarda cosa hai fatto ho quasi perso il sito oh wow sono curioso di leggerlo non riesco a fare niente così va meglio non preoccuparti tesoro sa come pare ci penso io d'accordo questo è un corsetto da vampira è uno strano zaino piccola proviamolo e iniziamo con la modalità 1 wow vedo già che sta andando meglio ottimo lavoro caro si buon compleanno congratulazioni e naturalmente i regali chiudi gli occhi a una sorpresa oh mi sono arrivata qui oh madame vuoi che la morda per te o lo farai tu stessa grazie papà lo farò io solo che devo salire un po le zanne sono troppo corte non osare rovinare la festa o farà di te una torta ok ok stavo solo scherzando tieni tesoro vai piccola è ora di mostrare i denti oh questo è il suo primo marzo è così carina grazie era delizioso e ora una torta ma dove sono le candeline aspetta un secondo vado a fuoco ho espresso un desiderio spero che sia veri che bello ritrovarsi a cena insieme faremo una cena aiuto oh mio dio è terribile cosa sono unghie da giardiniere che schifo di che parli non puoi andare in giro così sei una vergogna per tutta la famiglia non ti permetterò di offendere le mie unghie che tristezza oh ho un'idea è il conte dracuneus wow piacere di conoscerti oh anche lui è felice di conoscerti il conte adora le unghie non curate laviamo tutto ok non è meglio forte non sapevo fossero rosa ok papà ora tocca a te no 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 le mie dita hai visto sono a posto che tristezza ci ha mancato poco ora sono una vera vampira wow quante persone voglio dire quanti vampiri oh tocca a me cos'è questa tu non puoi entrare ma perché sono una vampira no le tue zanne non sono ancora cresciute davvero prendi questo sembra che abbia perso qualcosa non ha tempo per te sei pazza battene oh no mi hai infettato volevi una mazza beh avrai una mazza signora non ti lascerò passare che schifo devo lavarmi le mani bene ora vedrai la bestia che è in me wow che cos'è sembra un manuale su come diventare una vampira figa aria fresca libertà oh mio dio è un pipistrello in realtà sono un barone cos'era quello non c'è tempo per distrarsi ho ancora tante cose da fare con questo perro a riccia capelli renderò i miei capelli rigogliosi e setosi così fantastico proprio quello che volevo è arrivato il momento di sperimentare sono sicura che nemmeno gli antichi vampiri hanno queste ciocche di capelli va già molto meglio cos'è questo betsy sei tu è ora di cambiare il tuo abbigliamento questi vestiti vanno bene al massimo per gli strazzi hai ragione ho conservato queste cose per un'occasione speciale e mi sembra che sia arrivato il momento di usarle è tempo di trasformazioni wow è il momento dei gioielli e questo ciondolo mi ricorderà sempre di te betsy non mi aspettavo che fosse così bello dovrebbe essere sposto all'ouvre oh no da quanto tempo vado in giro così le mie sopracciglia non erano separate un tempo devo sistemarle un paio di fili dovrebbero bastare credo di aver esagerato ehi betsy sei già qui spero che tu sia più brava con la cera che con i fili grazie penso di potercela fare ora servirà solo un po di ceretta bene sopracciglia attenzione pronti ragazzi riempiamo di ceretta proprio come se fosse una piccola piscina con il mio mano sopracciglio avrò bisogno dell'intero barattolo accendiamo e wow questa è arte contemporanea fatto è ora di applicarla così bezzi strappalo fatto smettila wow credo di aver trovato un tesoro ci deve essere qualcosa di prezioso te l'avevo detto che profumo mi ami fragole che schifo è il momento di truccarsi l'eyeliner dovrebbe mettere in risalto la mia natura sofisticata ehi va tutto bene cosa c'è qualcosa che non va ho rovinato tutto non è mai troppo tardi per rimediare wow non l'avevo mai visto grazie betsy wow guarda che bellezza ora va molto meglio devo condividere la mia bellezza con tutti blood cosa da dove viene il mio mento ha un fratello gemello è terribile sono un mostro betsy perché sei stata in silenzio per tutto questo tempo ciao betsy che succede sparisci dalla mia vista come puoi farmi questo stiamo insieme almeno dalla terza elementare betsy grazie come farei senza di te questo sollevatore farà andare via il mento fastidioso molto in fretta no oh spero di non rivederti mai più penso di aver fatto un buon lavoro mi sono completamente dimenticata del pranzo ciao consegna a domicilio una pizza al salame consegna a Trum Trick una consegna veloce quanta bellezza vieni da me è il giorno più bello della mia vita i miei occhiali si sono rivelati molto utili che prelibatezza sento una sorta di potere in me wow non c'è di più mia regina sono solo una principessa non riesco a smettere sei bellissima che bella festa ancora tu sì sono io è quello che pensavo cos'è quella? ragazzi guardate siete venuti a trovarmi? ehi ciao ragazzi è terribile ciao non preoccupatevi le mie guance cadono sempre un attimo che c'è che non va? oh correte oh salvatevi oh la sessione di autografia è finita ehi ma dove state andando? è tutto il giorno che mi preparo nessuno vuole essere mio amico perché? perché? ecco chi ottiene tutta la fama oh ora so cosa devo fare per diventare popolare oh oh finalmente uscirò da questa tomba forse una crema anti invecchiamento mi aiuterà un attimo non mi serve oh è ancora fresco? andiamo ah quest'anno la perdita di capelli è iniziata prima è ora di rinfrescare la mia pelle ah servirebbe un lenzuolo non un tovagliolo perché non c'è un detersivo nella mia beauty box? avrei risparmiato un sacco di tovaglioli oh oh ehi dolly non arrabbiarti sa come fare sono tutta orecchi c'è una lavatrice in cucina perché non l'hai detto prima? ma è un po' insalito solo che devi provare oh ora capisco che significa lavaggio del cervello fatto oh ora va molto meglio è ora di tornare al mio piano oh credo che ora tocchi al mantello sì questi stracci non sembrano un mantello ora è molto meglio ma non cadere ai miei piedi ancora oh i denti sono bianchi però mancano le zanne forse devo andare dal dentista ehi mia non credo che gli zombie abbiano un'assicurazione prova questo grazie dolly mi hai salvato la vita vediamo cosa c'è qui è un kit da dentista di play doh chissà dove ha perso i denti vediamo lo aggiungo qui e premo sì il dente è pronto farò pratica su un paziente ed ecco delle zanne per me penso siano un po' troppo grandi ehi dolly ti mordo cosa? una testa da vampiro aiuto e cosa ti prende? è davvero così sensibile? queste zanne mi staranno benissimo devo provarle perfette la mia pelle chiara è così lucida la odio devo aggiungere un po' di pallore oh spero che i ragazzi non dispiaccia oh aghi ci ricorderemo sempre di te eri un buon amico e che bella polvere un attimo no il blu non va bene qui riposa in pace tu sei la mia unica speranza bambalina mi aiuterai vero? sei così carina staremo benissimo insieme e ora sarai anche tu una vampira dolly sei tu? non posso credere che tu l'abbia fatto di che stai parlando? non preoccuparti è uno scherzo c'è solo farina in questo barattolo oh mi hai spaventata oh vero è divertente bene e ora vediamo e l'ultimo passo è l'acconciatura che c'è di sbagliato nella mia? ehi c'è qualcosa che va a fuoco oh bu 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 dolly stai andando a fuoco ehi sono così bollente calma era solo uno scherzetto smettila stai bene posso prendere il tuo arriccio a capelli sì mia potevi chiederlo anche senza spararmi bisogna fare attenzione è molto caldo ma ora è il momento di aggiornare il mio stile wow fantastico dolly sei la mia migliore amica forse c'è qualcos'altro wow, è un gadget per le trecce devo provarlo è davvero rapido è un ottimo risultato questi anellini sono così carini penso che a Dalli non dispiacerà se li prendo in prestito oh, mi sono dimenticata delle labbra forse un sacchetto di sangue le ravviverà ne metterò un po' sul dito e poi sulle labbra oh, salato? che c'è che non va? mia, questo non è un buon metodo conosco un trucchetto che fa per te lascia che te lo mostri questo tiktok è già molto virale oh, forte, proviamo luci da labbra diversi e poi immergi il pennello con il balsamo nei brillantini sì, e ora un altro colore e mescoliamo tutto e cosa otteniamo? wow, non vedo l'ora di provarlo sembra fantastico grazie, ti seguirà dove sarà? guardami, guardami Mia, sono qui il gran giorno è arrivato già mi amano Mia sei la migliore posso avere un autografo oh, mi ha marso agente Peng eccone un altro perché? non ne hai diritto che dobbiamo fare con queste? dalle a me ci penserò io potresti fare più attenzione ho solo queste di mani oh, bene bene cosa abbiamo qui? jackpot è una guida su come fuggire sembra che dovrò trasformarmi in una vampira fantastico oh, no che vuoi da me? stai tramando qualcosa non provare nemmeno a scappare è chiaro? ci ha mancato poco cosa? eh, c'è qualcuno? oh, mi hai liberato e ora ti aiuterò oh, un ragno? aspetta puoi davvero aiutarmi? certo chiamami Violet cosa? chi sta parlando? Barbie? allevi ragni o cosa? oh, per favore non ho fatto nulla di male Violet è un piacere rivederti oh, sono allergica ai poliziotti che schifo è stata una bella lezione per lui grazie, Violet nessun problema, Barbie ricordi che ti avevo promesso di aiutarti ecco il mio primo regalo wow, Violet ora di sicuro ce la farò non vedo l'ora di aprirlo wow è proprio quello che mi serve è chiaro che la prigione non mi fa bene ma bisogna di rinfrescarmi peccato che le occhiaie non vengano via forse una crema potrebbe aiutarmi oh, la crema non basta mai con una pelle idratata il viso sembra più sano e ora passiamo alla maschera oh, sembra di essere nel cyberpunk wow, così tanto neon forse dovrei lasciarla così è molto elegante ehi, che cos'è questa? è Balenciaga? devo cercare su Google ehi, ridammela aspetta, ha funzionato il mio viso è di nuovo perfetto ma le borse sotto agli occhi ci sono ancora che figata le guardie saranno invidiose spegniti la mia faccia che è successo? ho dimenticato di dirtelo non è per vampiri è colpa tua wow, perché mi frudono così tanto? ehi, Fang posso fare una doccia? no, no, no niente pulci mentre sei qui dammi la mano ecco il tuo shampoo e l'acqua? qui questa non basterebbe neanche per Violet mi hai chiamato? oh, credo di avere un'idea wow, questo colore è perfetto grazie, Violet è proprio quello che mi serviva ok, spero che la gente non rimanga affamato oh, cos'era quello? ottimo lavoro ora posso aggiungere qualcosa al mio nuovo look è così carina ti piace, Violet? sì, hai ragione più sono meglio è mi sta davvero bene sì, molto molto meglio ehi, agente che ne pensa? oh, questo mi sta antipatico cosa? Barbie? bella acconciatura ma questi capelli non basteranno per uscire da qui dovrei lavorare di più su te stessa eccomi chi ha lasciato qui questo tesoro? grazie ehi, torna qua quello è il mio pranzo questa è la mia occasione finalmente potrò dare un'occhiata da vicino un volto, esattamente ecco quello che farò vediamo cosa abbiamo qui quante opzioni dove l'avrà messo? oh, è proprio quello che cercavo una borsa per il trucco è ora di truccarsi per prima cosa dobbiamo sbarazzarci di quello che non serve oh, finalmente mi sono lavata la faccia sono così bella e ora mettiamoci al lavoro per prima cosa scegliamo il fondotinta giusto rendiamo la pelle luminosa e applichiamo il fondotinta con una beauty blender ombreggiando le aree più ampie e ora gli occhi per avere un look da vampira sceglierò delle ombre scarlatte e un eyeliner nero pronta e ora le ciglia fantastico facciamo lo stesso per l'altro occhio wow, sono perfetta aggiungiamo un po' di cipria e cosa sarebbe una vampira senza rossetto rosso sangue finalmente è arrivato lo apro wow, un mantello spero sia della mia taglia cosa? ho scritto che mi serviva da uomo adesso è una prigione per donne smettila non è divertente non dire così oh dai stai calmo lo sai non potrai mai essere un conte ma questo non significa che io non possa essere una contessa la resistenza è inutile la polizia di Troom Trick è qui base? qui Aquila? questa è la mia occasione non credo che ne avrai bisogno tempismo perfetto penso di poterti usare queste non sono calze ma una vera e propria tela solo che al posto del pennello ho delle forbici wow, sono molto belle ma non è tutto usiamo i fili per completare questo trucchetto che ne pensate? un attimo abbiamo dimenticato le decorazioni Troom Troom Trick sono al settimo cielo e ora devo occuparmi anche dell'altra gamba Troom Troom Trick ha funzionato sono così felice te ne pentirai tantissimo stupido vampiro oh, c'è qualcuno di nuovo nella prigione oggi lo conosci Violet? tutti nel quartiere mi conoscono sono Huggy Barbie, è pazzo salvami ti faccio vedere io chi è pazzo smettila nessuno offende i miei amici wow i tuoi occhi sono così belli credo che stiano meglio a me però è proprio quello che mi serviva e ora sono o no una vera vampiro è tutto perfetto agente sono pronta puoi aprire la cella ho fatto tutto quello che c'è scritto nella lista guardi sta urlando di nuovo bene controlliamo oh ti ricordi che aspetto avevo quando sono arrivata qui? beh credo di meritare una scarcerazione anticipata ok vestiti zanne e occhi sei libera finalmente addio oh stai cucinando forse posso aiutarti? non credo proprio potrei tagliare un pomodoro perché il coltello è così opaco? cos'è il tuo sangue? lo voglio non osare toccare il mio ragazzo Gabriele stai bene? oh buono non farlo oh grazie cara andiamo questo stupido mortale non mi ha dato neanche il suo sangue ora oh grazie mia salvatrice ti davo un bacetto come si permette viene a casa mia e bacia mia figlia questo no resta qui la banana contiene molte vitamine e fa bene al sangue grazie non pensavo che Molly ci avrebbe presentati signore lei è sporco dove? qui? o qui? un attimo la aiuto dia un'occhiata non vedo niente fa male mi dispiace non pensavo fosse così sensibile la cena è finita ho capito passiamo alle bevande consoliamoci con le bollicine oh che giornata wow questo lampadario è più vecchio di tutta la tua stupida famiglia non si preoccupi signore lo aggiusto io raccogliamo tutti i teschi lungo il percorso bellissimo ecco il suo lampadario proprio come quello vecchio wow papà hai visto? è bello però preferivo quello vecchio come potrei migliorarlo? come potrei migliorarlo? esatto grandi teschi sì in effetti mi piace ottimo e ora andiamo a bere qualcosa non avere fretta festeggiamo il nostro incontro e il nostro nuovo lampadario possiamo averne un po' anche noi? certo non sono ancora pronto non preoccuparti andrà tutto bene è solo succo di pomodoro pensavo fosse sangue e allora prendiamo a noi vampirella lo odio vediamo come te la cavi adesso devi dimostrarmi di essere un uomo ok signore avanti wow è forte oh mi aspettavo di più da te ok ora basta hai perso non sei niente in confronto a me ehi che ne dici di una rivincita sulle dita? sei pronto? ok una rivincita è una rivincita spero che papà non si rompa le dita come mortale non te l'aspettavi eh? non sapevi che sono il maestro di questo gioco wu wu vittoria scommetto che Jessica è caduta apposta in quel pozzo per non venire a lezione che staranno combinando? trum trum trick ok basta dai spider facciamo vedere a mia figlia che il suo ragazzo è solo una femminuccia stanno arrivando? qual è la prossima lezione? matematica cosa? non era il suo armadietto? e il compito per casa? oh lasciami andare aiutatemi per favore che strambo ho visto una cosa del genere al cinema beccato stupido perdente mi manchi tesoro ti voglio bene ci vediamo al college ecco quello che sta facendo oh sei così carino ehi ma non è una vita tua? perché ti stai coprendo col giornale? oh ciao Molly ma perché ti stai nascondendo? ma di che parli? sono il tuo ragazzo? smettila oh signora non è meraviglioso il tempo oggi? papà ascolta smettila ti ho riconosciuto ascolta signorina tu e questo ragazzo non potete stare insieme invece Bump Terzo è perfetto per te no papà non mi piace forse questo è meglio è un tricheco guarda è proprio come noi guarda delle zanne come fai a non capire non si tratta solo delle zanne oh che succede a un mio selfie? oh questa non va bene penso che dovremo buttarli tutti aspetta tesoro non te ne andare forse vuoi rivalutare questo bel tricheco? la tavola è pronta finalmente posso invitare gli ospiti ho aspettato questo giorno per un anno intero ecco la tua torta tesoro aspetta quanti anni hai? ho perso il conto spero che finalmente ci baceremo cosa? non succederà mai vediamo come spegne la candela eterna ehi puoi soppiare tu per me? proviamo che c'è che non va? attenta candela mi dispiace lascia che ti aiuti e ora tocca a me e farti un bel regalo cosa avrà lì? tesoro sono così felice che e se fosse un cacciatore di vampiri? devo controllare ok vediamo se Molly è contenta di questo regalo mi sono perso qualcosa per esprimere il mio amore voglio darti questo wow che carino ma perché è così caldo? oh che succede? non sai che l'argento è pericoloso per i vampiri? è un bene che io sia qui il miglior regalo è sempre uno fatto a mano e quando hai le mani d'oro il regalo diventa inestimabile come questo lo proviamo? che ne pensi? oh grazie papà è molto bello oh ci avevo provato così tanto non preoccuparti tesoro anche il tuo regalo è bello se vuoi posso almeno guardarlo ci siamo divertiti molto insieme mi dispiace per mio padre è solo che non è abituato ma è una brava persona eccomi ah ah bevanda mortale aggiungiamo un po' di sonnifero forse così lascerai in pace mia figlia per un po' di tempo oh che buon odore oh no cosa ho fatto? S.O.S senti sono stata al centro commerciale l'altro giorno ho visto delle belle cose andiamo perché non sono in una bara? mi sono addormentato sul pavimento devo stare più attento ah ah ecco dov'è il suo armadietto e ora vediamo cosa ci tiene dentro Molly e i cuori e questo oh aspetta il suo diario interessante ora è il mio potere ho io il potere qui e sei nel resto non è quello che pensa partiremo alla stazione brutto ladro ci si sente soli qui quando arriva l'ora del pranzo ti libererò mortale sei venuto a salvarmi sbrigati ok aspetti un attimo fermati ci sono le chiavi sotto al tavolo oh di cosa hai fatto? non si preoccupi passa a farcela usa le chiavi sono lì su quel tavolo non serve ho già allentato una delle aste oh avanti ok guarda ci sono qui le chiavi Gabrielle prendile apri quella maledetta cella è così difficile volevo solo fare una buona impressione su di lei ma c'erano le chiavi oh cos'è questo buon odore? oh è ora di fare merenda cosa? no la prego non ho sentito troppo dolore benvenuto in famiglia figliolo ciao 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 ciao